Partire dal territorio per far crescere l'Italia è il titolo del convegno organizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti e ospitato dalla provincia di Padova. Un grande convegno, importantissimo perché dà un ulteriore strumento ai nostri comuni, il prestito e in questo momento di estrema crisi per i nostri comuni questo è un buon segnale, un buon segnale di prospettiva che noi offriamo come provincia ospitando questo convegno ai nostri amministratori comunali e ai funzionari dei nostri comuni. Ci auguriamo di continuare in questi anni a dare servizi. Siamo stati in questi giorni appena insediati e siamo stati insediati con una prospettiva, essere la casa dei comuni, la casa delle opportunità per i nostri enti. La Cassa Depositi e Prestiti oggi ha presentato non soltanto la possibilità di rinegoziare i mutui ma anche un'importante iniziativa, quello del portale per gli immobili. Sì, un portale degli immobili che adesso va sviluppato e va conosciuto. Sono tante le opportunità che sono in circolo e questi momenti di incontro servono per conoscerle, portarle nel territorio, farle conoscere anche i piccoli comuni e questa è la prospettiva che vuole lanciare questa nuova provincia di Padova.